Alcune varianti sarebbero totalmente invisibili ai test rapidi, anche secondo il parere di alcuni esperti. Parte da questo assunto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Sara Marcozzi, che torna a chiedere in consiglio chiarimenti sui test di massa. La Marcozzi ha più volte sollevato, visto il proliferare delle varianti, dubbi sull'utilità delle campagne di screening, non in sé perché sono utili strumenti di prevenzione, ma per l'uso dei test rapidi antigenici e per questo ha più volte chiesto l'utilizzo dei test molecolari più affidabili, per avere un quadro più veritiero della situazione, senza rischiare di mandare in giro asintomatici positivi inconsapevoli dei rischi. Noi siamo favorevoli agli screening di massa, ma abbiamo chiesto che venissero utilizzati i tamponi molecolari e non i test rapidi, perché questi ultimi non sarebbero completamente attendibili. Molti virologi, tra cui il professor Crisanti, ripetono ormai quotidianamente come molte varianti sfuggano ai test rapidi e abbiano come conseguenza quella di far circolare in maniera disinvolta persone asintomatiche positive che sono convinte di essere negative. Del resto, un esempio eclatante lo abbiamo avuto di recente a Guardia Grele, città in cui su 4.300 tamponati nel pieno del cluster a variante inglese soltanto due persone sono risultate positive e oggi molti sindaci si stanno muovendo autonomamente per organizzare screening di massa con test molecolari. Quello che chiediamo al presidente Marsilio e all'assessore Veri è di procedere ad una campagna di screening di massa con test molecolari e dunque con test più sicuri, ove ciò non fosse possibile quantomeno di accompagnare la campagna di screening fatta con i test rapidi con una campagna altrettanto massiccia di comunicazione che inviti i cittadini abruzzesi a mantenere comportamenti prudenti, dunque distanziamento e mascherina, anche in caso di un eventuale risultato negativo del test rapido. L'esempio portato avanti è appunto quello del caso di Guardia Grele, numeri ben diversi sono usciti da test di massa effettuati direttamente con tampone molecolare a pizzo ferrato, sostiene, per questo ha depositato un' interpellanza urgente in consiglio e un accesso agli atti per andare fino in fondo e avere delle risposte. La Marcozzi ha chiesto nei giorni scorsi chiarezza anche sulle società che hanno venduto i test rapidi alla regione Abruzzo a suo giudizio vicine ad ambienti del centro-destra. Grazie. Grazie.